Spero tanto che il mio bimbo possa sconfiggere il terribile mostro e ritornare a vivere la sua vita da bambino. Sono le parole di Simona Bianco, una mamma disperata che sta lottando insieme al suo bambino per sconfiggere una grave malattia. Ho scoperto la sua malattia a luglio del 2018, quando il mio piccolo ha incominciato ad avere febbricole ricorrenti e dolori ossei molto forti che l'hanno portato a non usare più la gabbina destra e ad avere la schiena completamente rigida. Dopo molti ricoveri e pareri medici che correlavano tali dolori alla crescita, ho deciso di portarlo a Napoli, dove subito hanno diagnosticato questo terribile tumore maligno, molto aggressivo, già metastatizzato. In quel momento la mia vita è cambiata, scrive Simona, la mamma di Chicco. Operato d'urgenza per evitare la paralisi e abbiamo iniziato questo percorso lunghissimo, pieno di chemioterapia, interventi chirurgici, radioterapia, immunoterapia. Eravamo arrivati quasi a fine percorso, quasi vincitori, quando un dolore forte al braccio ha ricambiato le nostre vite. Una recidiva? E adesso, non lo so, spero nelle nuove terapie, nelle cure sperimentali. Da qui l'appello di Simona, la mamma di Chicco di soli 5 anni. Chiedo il vostro aiuto perché per garantire al mio piccolo le cure migliori ci siamo trasferiti all'ospedale di Genova e nel caso fosse necessario proseguire le cure e all'estero. Le lacrime continuano a scendere sul mio viso ma lui è la mia forza, la mia ragione di vita, io il suo pilastro. Spero tanto che il mio piccolo possa sconfiggere questo terribile mostro e ritornare a vivere la sua vita da bimbo. A sostenere Chicco, diverse associazioni del territorio cilentano che si sono mobilitate da subito, dimostrando solidarietà e affetto verso la famiglia. Anche l'associazione Cilento Terra Solidale, in collaborazione con le parrocchie di Laurito, Montano Antili, Alfano, diverse associazioni del territorio e la Proloco stanno organizzando per il 28 settembre nella piazza centrale del comune di Laurito, a partire dalle ore 19, una serata di degustazione di prodotti tipici e musica, tutti insieme per sostenere Chicco. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno destinati ai familiari del piccolo Chicco.